Oggi vi svelo il mio trucchetto per fare delle onde perfette senza ferro. Asciugate perfettamente i capelli. Io sistemo sempre la frangia con spazzola iPhone perché la preferisco più sistemata. Ora dividete i capelli in due sezioni e munitevi di una fascia di un accappatoio. Fermate la parte destra e iniziate dalla parte sinistra arrotolando una sciocca per volta. Dividete i capelli in sezioni, fate un giro a 360 gradi e aggiungete sciocca per sciocca fino a terminare tutta la sezione dei capelli su cui state lavorando. È molto semplice, ve lo giuro. Dovete solo trovare la vostra tecnica e cercare di capire quanto vi piacciono grandi le onde e potete farle più grandi e più piccole in base a quanto fate grandi le sciocche. Grazie a tutti. Fate la stessa cosa dall'altra parte e aspettate due o tre ore. Sì, sembrerete un po' fino. Sciogliete il tutto. Se a sera potete andare a dormire senza aprire le sciocche. Se a mattina invece potete fettinarli. Et voilà!